eccoci qua ben trovati oggi la musica ci porta da un cantautore bravissimo e con noi in modna ciao ben trovato che piacere ciao ciao ben trovato a te ben trovati a tutti piacere mio senti tu sei in promozione con un brano bellissimo dir bellissime dire poco ti porterò a parigi parlacene e come ci arriviamo ti porterò a parigi praticamente è una canzone che racchiude tutte le fragilità di una persona che magari sta attraversando dei periodi abbastanza particolari e quindi quando sa che magari quasi in fase di bilico cerca di riprendersi in mano quel che magari gli sta sfuggendo cercando di promettergli qualcosa di importante di straordinario e alla fine però non si sa se la cosa che viene promessa porterà un risultato oppure la cosa arriverà in fase di bilico come all'inizio quindi c'è tutto ci sono sempre dei pro e dei contro in una canzone quando la si scrive quando la si interpreta chi è modna ma moda è un artista di una semplicità unica con umiltà infinita una persona che ama fare quel che fa ama la musica a 360 gradi cerca di trasmettere a quanta quanta più gente possibile con tutta la sua spensieratezza ma soprattutto senza tralasciare la sua voglia di fare il suo il suo mordere il suo mordere la vita cercando di di non lasciare mai nulla al caso e prendersi tutto quello che si riesce a prendere sentiti social quanto sono importanti oggi nella musica secondo te ma i social secondo me hanno un'importanza davvero straordinaria perché diciamo che grazie i social ormai si fa tutto quindi alla fine addirittura con i social puoi fare la spesa te la portano a casa per far vedere quando prima dovevi alzare il telefono chiamare vedere capire se la persona il fattorino insomma poteva non poteva quindi parte parte da un minimo ad arrivare a un massimo l'importante che vengono comunque usati con criterio e con la giusta importanza e per un risultato tra virgolette a volte da ottenere perché serve a quello che poi la chat di gruppo tra amici quella ci sta però poi diventa un po una rottura di scatole invece se vengono usati con una certa importanza veramente sono di uniti un'utilità unica oggigiorno vero la penso anche io come te senti hai fatto tanto nella musica cosa vuoi dare ancora alla musica e cosa chiedi alla musica ma io penso che a volte mi rendo conto che forse non ho dato ancora nulla e ho da chiedere ancora tantissimo come dicevo prima l'importante è saper mordere la vita e non lasciare nulla al caso devi essere bravo ogni giorno e devi pensarlo come se fosse il primo giorno della tua tra virgolette carriera artistica perché se hai questa energia questa questa inerzia dentro di te sicuramente le cose potrebbero susseguirsi e continuare a succedere altrimenti rimarresti attaccato a un palo di un porto dove comunque neanche più le navi riescono a salpare quindi sei solo tu e i tuoi ricordi invece il passato è passato il presente ok ma oggi che siamo nel presente bisogna già pensare al futuro quindi devi stare sempre un passo più avanti rispetto agli altri ci dici le tre pagine social le mie pagine social sono su facebook modena official su instagram modena official su tik tok e lo so pochissimo modena official su twitter anche modena official e al momento il sito è ancora aperto con il mio nome e cognome che è www.maurotumor.it chi entra nel mio sito può vedere un po di biografia foto cose che ho fatto in passato ha da trascorrere sul mio sito penso almeno una ventina di minuti così perché c'è tanto da leggere tanto da vedere vero 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 io ci sono stato è un sito molto ben fatto senti modena ti dico grazie mille grazie a te grazie a te e noi vi lasciamo a ti porterò a parigi ciao ciao Stare bene non fa bene e ferirti non conviene a un arciere che ha le frecce per farti sorridere una rana al cioccolato ma che dico sto impazzendo forse ho messo un po di sale nel caffè rimetto insieme un puzzle lo guardo e non ha senso avrei dovuto scriverti per farmi perdonare ti porterò a parigi e una promessa ti stringerò la mano e tu tienila stretta sarai la mia regina senti quello che ho da dirti invisibile agli occhi di tutti ti giuro faremo così splenderai a Notre Dame o sotto il cielo di Montmartre innamorati in un giardino di Monet impressionismo a parte tu mi illumini dimenso questo te lo dico sulla torre Eiffel ti porterò a parigi è una promessa ti stringerò la mano e tu tienila stretta sarai la mia regina senti quello che ho da dirti invisibile agli occhi di tutti ti porterò a Parigi ogni volta che vorrai sarai la mia promessa e non mi stancherò mai di dirti per davvero che sei tu quella che voglio inganneremo la notte i suoi avi ti giuro faremo così faremo così faremo così ripartiremo da qui ripartiremo da qui ripartiremo da qui ti giuro faremo faremo così piacetà 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 Grazie a tutti.